E' un mangiapositivo quello che si è presentato alla stampa questa mattina alla vigila del match di domani pomeriggio al San Nicola dove la FC Bari 1908 sfiderà il Modena di Walter Novellino nella settima DB. Una gara difficile in cui l'allenatore Biancorosso dovrà rinunciare agli infortunati Donati e Galano oltre a dover fare i conti con un turnover quasi obbligato a causa della forma non ancora ottimale di alcuni giocatori come Rossini e Camporese reduci dagli infortuni della passata stagione. Massimo ha fatto un primo controllo però penso che inizio settimana prossima verrà fatto un altro controllo ancora più approfondito non sembra niente di preoccupante però dobbiamo aspettare quest'altro controllo che può togliere qualsiasi tipo di dubbio. Contini ha fatto bene l'altra sera, è un giocatore che dal punto di vista fisico l'anno scorso ha avuto qualche problemino e ha avuto una stagione particolare. Rossini ha giocato con continuità l'anno della Sampdoria che non è l'anno scorso ma sono due anni fa, l'anno scorso ha giocato poco e niente. Camporese e quindi c'è una gestione anche da quel punto di vista. Camporese è un ragazzo che ha avuto tantissima sfortuna nella sua carriera, ha avuto dei problemi importanti. Noi dobbiamo per criterio e per senso di rispetto massimo nel giocatore gestirlo anche da un punto di vista delle prevenzioni per i problemi che ha avuto e poi ha finito di giocare a maggio, ha fatto soltanto allenamenti con la Fiorentina senza giocare quest'estate. Ligi ha avuto a marzo dell'anno scorso uno stiramento, prima il pneumotorace e poi lo stiramento, non ha fatto preparazione e poi è arrivato da noi. Io non posso far finta di non sapere queste cose, sono aspetti che io devo considerarli ma per il rispetto e per la salute dei giocatori. Modena è un'ottima squadra che ha fatto un ottimo campionato l'anno scorso con un'identità ben definita e che sta continuando sulla stessa linea anche quest'anno. È una squadra molto solida, è una squadra che ha dei giocatori importanti, da Granosce e più tutto il resto. È una squadra di livello e che io all'inizio dell'anno quando ho fatto qualche nome di squadra ho messo anche il Modena in questo gruppo perché sono convinto che è una squadra che farà un campionato importante.